Eccoci qua, siamo al rifugio delle Holder, in Valle di Funes, a 2000 metri, con Sally, Figo, Akira, Pescio, e sta arrivando Cash! Guarda come arriva! Guarda Cash! Sally guarda Cash! Bravo! Bravo Cash! Guarda Cash! Sally guarda Cash! Cash, c'è un gran pesce! Sally che mi butta per terra! Sally! Cash! Pescio e Figo che iniziano a giocare in Valle di Funes! Le montagne! Fantastic!